Scusi, che ora è? 9.10 Grazie, prego Sto aspettando mio figlio, sono arrivato adesso da Roma, avevamo l'appuntamento qui sotto il monumento di Garibaldi Io pure sto aspettando mio padre, dalle 9 dovevo arrivare da Roma, io faccio il militare qua Anche mio figlio, alla caserma Piale Eh vabbè, c'è solo quello qua, avrà avuto un permessino visita parenti, credo Beh, penso di sì, quando facevo il militare io i permessini non c'erano, beh, ma quelli erano gli anni di guerra Pure mio padre ha fatto la guerra, quando comincia a raccontare gli tedeschi, i ricoveri Anche io ho questo vizio, ma non è perché uno rimpiange la guerra, forse è perché rimpiange la gioventù E succederà anche a voi Allora ci dobbiamo dare da fare per avere una gioventù da rimpiange Lei come figlio deve essere simpatico Anche lei come padre Eh grazie È strano perché è sempre molto puntuale Pure mio, no, mio padre no, veramente Lui è sempre impicciato, è avvocato Anch'io? Sì Allora forse lui ha lo studio nel quartiere Prati Anch'io Studio abitazione, abbiamo via Paola Emilio Da 47? Sì, secondo via Interno 5 5 e 6 Michele! Grazie a tutti